Grazie alla sua ricca esperienza internazionale, che buona pratica in tema di protezione civile e disabilità potremmo dare e adottare all'interno del nostro sistema? Negli ultimi anni, dopo l'approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, c'è stato tutto un processo di inclusione delle persone con disabilità all'interno, sia degli interventi di emergenza che di aiuti umanitari. Attualmente a livello internazionale si stanno discutendo le linee guida per l'inclusione delle persone con disabilità negli interventi di emergenza, c'è un gruppo specifico dell'OIASC delle Nazioni Unite, ci sono una serie di documenti che danno delle indicazioni già operative che dovrebbero essere fatte proprio dai vari sistemi di protezione civile o di aiuti umanitari. Ci sono il Sendai Framework, che è il convegno fatto in Giappone nel 2015, ci sono le indicazioni dell'Unione Europea, c'è un documento sempre dello stesso anno che parla di come la protezione civile debba essere inclusiva, e poi adesso ultimi sono uscite anche le linee del Global Combat per i Rifugiati, altro elemento che ha a che vedere con la protezione. Diciamo che questo quadro di normative e di documenti dovrebbero essere fatti proprio, e fatti propri significa da un lato coinvolgere direttamente le organizzazioni di persone con disabilità in tutte le aree di intervento della protezione civile, in questo caso, quindi non solo della progettazione, ma anche del primo intervento, ma anche poi dell'accoglienza, dell'eventuale continuità nei campi o in altre aree. Il secondo elemento è quello di adeguare la capacità della protezione civile a saper trattare queste persone, e quindi formare gli operatori, formare i comuni, la ricerca fatta qualche anno fa ha fatto emergere che nei piani dei comuni le persone con disabilità sono poco rappresentate. E poi ci sono una serie di strumenti che hanno a che vedere con la capacità della protezione civile di dotarsi di qualche elemento innovativo per sapere dove vivono le persone con disabilità, quali sono le loro condizioni e quale tipo di intervento andrebbe fatto in caso di emergenza. Ci sono le dotazioni che le protezioni civile dovrebbero avere, quindi negli stock di conservazione delle attrezzature di intervento, bisognerebbe garantire un certo tipo di attrezzature con i bagni, con i percorsi accessibili, con la programmazione delle eventuali tendopoli. È chiaro che il tutto è senza segregare le persone con disabilità, nel senso che loro vivono con le loro famiglie, vivono con la loro comunità e quindi devono essere anche prese nelle tende. E poi bisogna vedere piano per piano. Stava parlando prima di alcune organizzazioni dei paesi all'avanguardia. Quale si considera con più rispetto e tutela delle persone con disabilità in caso di emergenza? In Europa forse i sistemi migliori sono quelli di primo soccorso, che normalmente vengono fatti dai vigili del fuoco. Oggi ci sono una rete molto interessante a livello europeo, fanno convegni periodici e devo dire che ho visto moltissime esperienze in tantissimi paesi europei dove c'è una formazione specifica, un'attenzione specifica e così via. Sulla protezione civile, anche qui non ci sono ricerche sul campo, quindi se io dovessi dire qual è meglio e qual è peggio, non ho dati. Però è anche vero che negli ultimi anni l'Unione Europea, dopo il 2015, per lo stesso convegno che si è tenuto in Giappone di cui parlavo prima, ha emanato un documento che dice che la protezione civile deve essere inclusiva. Ha stanziato dei fondi per progetti, non abbiamo ancora un rapporto concreto di che cosa siano stati i risultati, però è un tema che ha a che vedere con una progressività. Poi ci sono altri paesi del mondo dove abbiamo per esempio delle ottime organizzazioni che sanno intervenire in caso di emergenza, inondazioni in Bangladesh, terremoti in Cile, però sono associazioni alla società civile che collaborano con la protezione civile e logicamente mettono in campo la loro competenza, la loro capacità di intervento. A livello internazionale c'è l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa della riduzione dei rischi di disastro, c'è una rete di associazioni competenti che aderiscono a quell'ufficio e che collaborano nelle varie interventi quando c'è necessità. RITS e DPI portano avanti iniziative volte a tutelare le esigenze delle persone con disabilità in caso di emergenza? Quali? Certo, qui il nostro lavoro è un lavoro di innovazione, la RITS, la Rieta Italiana di Disabilità e Sviluppo coinvolge due organizzazioni che fanno cooperazione, l'AIFO e l'EducAID e due organizzazioni persone con disabilità, la FISH e DPI Italia. In questo lavoro abbiamo sperimentato in alcune aree di emergenza delle strumentazioni nuove, per esempio a Gaza, nella striscia di Gaza in Palestina abbiamo sviluppato i peer council dell'emergenza, persone con disabilità che diventano consiglieri alla pari di persone che diventano disabili o sono colpite dalla condizione di emergenza e che devono avere una serie di sostegni appropriati legati alla capacità di riformulare la propria vita nel caso siano colpiti da disastri. A Gaza questo è diventato così positivo, questa esperienza, che adesso sta nascendo il Centro per la Vita Indipendente dove lavoreranno queste persone. L'altro elemento è quello di conoscere le persone con disabilità. Spesso nel momento in cui nascono questi eventi calamitosi, le persone, chiamiamole così, vengono accolte come possibile, ma non vengono fatte piani personalizzati, né si conoscono le loro condizioni. Noi abbiamo sviluppato un altro strumento che è quello delle emancipatorie disability research. È una ricerca che coinvolge le stesse persone con disabilità a conoscere la propria condizione, a valutare quali siano gli elementi di discriminazione, di mancanza di opportunità e quindi a formulare delle proposte che rendano queste situazioni migliorabili e positive. Le abbiamo fatte in India, le abbiamo fatte in Palestina, lo stiamo facendo in Liberia, in Mongolia. C'è già un corpus di strumentazioni che possono essere anche trasferite, diciamo, pure in Italia. È chiaro che gli strumenti sono tanti però, perché dipende dalla condizione, dipende dalle situazioni. Noi puntiamo a che ci siano dei progetti personalizzati per ognuno, perché se pensiamo alla disabilità come un range da 0 a 100, scopriamo che tutti non hanno il 100%. E se entriamo nel merito delle attenzioni, ci rendiamo conto che coloro che hanno necessità di quelle attenzioni sono una delle variabili di diversità umane. Quindi intervenire per tutelare i diritti umani di tutti significa tener conto delle variabili di diversità umane e garantire a tutti gli appropriati sostegni. In qualità di nuovo coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità? Quali linee di attività verranno sviluppate quest'anno? Allora, qui insomma non posso ancora dare una risposta sensata, nel senso che io incontrerò proprio questa settimana lo staff del Ministero della Famiglia della Disabilità, quindi non ho ancora indicazioni sui miei poteri, sulle mie indicazioni di intervento. L'area della protezione civile è una delle aree che è contenuta nel programma di azione, nella parte dell'articolo 7, della linea 7 scusate, è evidente che anche lì ci sono tante cose da fare. So che è in corso di definizione il decreto di applicazione dei raccomandazioni, lì avremo molte cose che dovremmo discutere insieme. È chiaro che ognuna di queste azioni deve avere il supporto del Governo, perché io non è che posso decidere. L'organismo osservatorio è un organismo di elaborazione, di proposte, poi le decisioni le prende il Governo. Dal mio punto di vista dovrebbe essere sviluppata un'azione di tener conto di tutti questi elementi che oggi stanno nel tavolo di discussione internazionale e quindi arrivare a definire qualche regolamentazione che sia molto in linea con quelle linee è uno degli obiettivi che spero il Governo accetterà sul campo della protezione civile. Anche perché la protezione civile è un po' complicata in Italia, perché c'è la competenza nazionale, competenza regionale, competenza comunale, quindi riuscire a omogenizzare gli interventi, significa fare un'operazione complessa, però allo stesso tempo un'operazione che oggi si può fare e che credo ognuno degli attori ha interesse a fare, perché tutelare i diritti di tutti è ovviamente una cosa ovvia. Sì, lo spieghiamo tutti, è una grande sfida ma ce lo riusciamo. E speriamo, speriamo, speriamo. Comunque si sta già andando avanti, questo è il punto positivo. Va bene, grazie e buona giornata e buon lavoro. Buona giornata anche a voi. Grazie a tutti.